Ancora morti nel mar Mediterraneo. Sarebbero almeno 40 migranti che hanno perso la vita a largo delle coste libiche nel tentativo di traversata dall'Africa all'Italia. Dalla Marina Militare fanno sapere che sul posto è intervenuta la nave Cigala Fulgosi. A bordo del peschereccio soccorso, a 21.000 dalle coste libiche, c'erano circa 400 migranti. Le 40 vittime sarebbero state trovate chiuse nella stiva. Sono scattate le verifiche dei militari sul numero dei migranti presenti a bordo e delle vittime, mentre squadre di medici sono salite sulla nave per le prime cure del caso.